Festeggia il nuovo anno con il cenone di San Silvestro, firmato del sito Hotel Le Due Torri, 0825 67 00 01. Io sto sempre allegro, tutti mi volevano bene, mi dava mano per tutta la mia famiglia, perché mio padre era un giocatore, mio fratello era un giocatore, sempre mi dava mano per essere un giocatore, che io sto sforzando di essere adesso. Il tuo procuratore Beppe Accardi è stato determinante e fondamentale per il tuo arrivo in Italia. Sì, io ti dico che per me non è come un procuratore, è come una famiglia, anche la sua moglie, io ti chiamo sempre la mamma, ti dite a lui la mamma, perché nel momento difficile loro riesco a fare tutto per me, anche per la mia famiglia. Questa è una cosa che io non puoi dimenticare mai, perché soldi è una cosa che vieni, vai, ma l'amicizia è più importante di soldi, è una cosa che per me è come una famiglia, non ti tratti adesso come un procuratore, ma come una famiglia. Tu sei una stella nel tuo paese per quanto riguarda il calcio. Sì, riesco a fare un gol e tre assistenze, in totale noi facciamo cinque gol. Cinque gol, ho fatto uno e tre assistenze, poi ho fatto andare alla squadra per la Coppa d'Africa per la prima volta. All'interno dello spogliatoio tu sei il più sorridente di tutti, lo stiamo vedendo anche in questo momento. Con chi hai legato particolarmente all'interno dello spogliatoio? Io con tutti, con tutti, con tutti. Io sono uno così, io per quello quando vado a un campo cerco di fare qualcosa, perché quando vinci la squadra è buono ridere, quando perso è duro, ma io sono così, non posso cambiare.